Se ho un nemico, un disabile, un bambino, un nascituro, una donna, un migrante, persino un lavoratore, sono tante le vite oggi messe a ripentaglio. Invece nessuna vita va mai discriminata, violentata o eliminata. I vescovi italiani, in vista della giornata nazionale che si celebrerà il 4 febbraio prossimo, lo ribadiscono in un messaggio che propone a tutti di guardare con occhi sinceri. Perché se si va al di là di visioni ideologiche distorte, ogni vita si rivela un dono prezioso ed è capace di donare qualcosa agli altri. Lo dimostrano l'esperienza, la storia, quegli sbagli del passato a cui se ne aggiungono di nuovi oggi, favoriti dalle crescenti possibilità tecnologiche nella manipolazione dell'essere umano. Lo dimostra la scienza, dinnanzi alle aumentate conoscenze sulla vita nel grembo materno. È la vita stessa ad aver solide ragioni, non la sua funzionalità. Grande la preoccupazione dunque per i testi di legge, locali e nazionali sull'eutanasia. Ma vengono rigettati anche l'utero in affitto, il traffico di organi, l'uso delle armi, la violenza, la tratta, la pedopornografia, l'aborto, indebitamente presentato come diritto sempre più banalizzato anche mediante farmaci abortivi del giorno dopo. Drammatica invece la crisi demografica che dovrebbe essere uno sprone a tutelare la vita nascente, intervenendo con opportuni sostegni per rimuovere ostacoli economici e sociali. perché è una questione di civiltà, non di fede, anche se la difesa della vita ha un inderogabile impegno per tutti i credenti, tanto che la giornata per la vita, nell'ottica dei vescovi, assume un significato interreligioso.